Buongiorno e bentrovati. Buongiorno e bentrovati per l'appuntamento mattutino con l'edicola di TVL. Partiamo subito dalla cronaca locale. La Nazione dedica un articolo abbastanza ampio al tema della sicurezza, in particolare legata a attività imprenditoriali e commerciali, soldi per difendersi. Arrivano aiuti per i commercianti all'iniziativa della Camera di Commercio che ha annunciato lo stanziamento di un profondo sperimentale da 15 mila euro per commercianti e imprenditori. L'unica clausola per avere l'incentivo è quello che il sistema sia collegato alle forze dell'ordine del territorio. Ogni attività potrà ricevere fino a un massimo di 750 euro. Come contributo per installare e aggiornare sistemi di allarme, i contributi saranno assegnati sulla base di uno specifico bando di prossima emanazione, saranno concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili. Un'iniziativa che va incontro a richieste più volte avanzate, in particolare dal mondo del commercio. Un ritorno poi su una questione molto dibattuta in questi giorni. Avremo modo di approfondirla anche su TVL. Nove regole su Viva e modifiche ancora possibili. Questa querela aperta appunto da una presa di posizione del Comune di Pistoia. Le prese di posizione scrive adesso la provincia a nome del suo presidente. Le prese di posizione sono a priori in quanto non esiste ancora una proposta tecnica su cui avviare una discussione che necessariamente dovrà coinvolgere i cittadini e operatori, ovviamente gli amministratori. Qui si parla del piano di coordinamento territoriale della provincia, appunto che mette un po' insieme i principali strumenti urbanistici. Serviranno, dicevano, i passaggi sia in consiglio provinciale che nell'assemblea dei sindaci. Prima di adottare e approvare le variante al piano territoriale appunto di coordinamento, una variante che su richiesta del Comune di Pistoia dovrebbe appunto prevedere limitazione alle espansioni delle aree a vocazione appunto vivaistica. Ancora la Nazione nella pagina del Valdegnevoli di Montecatini, nello specifico da notizia dell'accordo che è stato raggiunto insomma sull'avvertenza Balducci. Si è conclusa la notte scorsa la vicenda della procedura di mobilità per i 45 lavoratori del calzaturificio Balducci di Pevanievole. L'accordo prevede un indennizzo economico per tutti i lavoratori pari a 7.500 euro lordi da corrispondere al momento del licenziamento. Inoltre verrà pagata la mensalità di maggio non coperta dalla cassa integrazione ritirata il 30 aprile scorso. Insieme alla stessa mensalità saranno liquidate tutte le competenze relative alla chiusura del rapporto di lavoro, rate tredicesima ferie, mentre il TFR sarà erogato soltanto una quota e rimanente seguirà invece il percorso di richiesta di procedure di concordato che l'azienda ha manifestato di avviare a breve. Insomma è il sigillo definitivo su questa vicenda dolorosa per il territorio pistoese e la chiusura di un'impresa storica come Balducci. Poi si dà notizia della Maxi dell'incontro che ci sarà sull'altrettanto dolorosa vicenda della Maxi truffa alle poste di gnevole. Venerdì incontro con il risparmiatore alle 14 nella sala consigliare del comune. L'atteso incontro tra dirigenti di poste italiane e risparmiatori della gnevole truffati dall'ex impiegato che per anni ha lavorato nell'ufficio della frazione dei rappresentanti della giunta comunale. Sono oltre 60 le famiglie rimaste coinvolte nella vicenda che hanno visto andare in fumo risparmi per circa 6 milioni di euro. e questa sarà un'occasione per chiarire se e come queste persone saranno rimborsate delle talvolta ingentissime somme che hanno perso a mano a causa di questa truffa. Interessante anche il pezzo di apertura del tirreno in cronaca di Pistoia. Si tratta di materia quanto mai sensibile visto che si parla di sanità. A Villone Puccini i posti per le cure intermedie. A Villone Puccini i 14 letti di cure intermedie saranno attivati alla residenza sanitaria pistoiese. I posti letti per pazienti che sono dimessi dall'ospedale ma che hanno ancora bisogno di cure. Annunciate a inizio anno dall'ASD Toscana a centro in cui, come è noto, è confluita l'ex ASD 3 di Pistoia. L'intenzione ha spiegato il dottor Daniele Mannelli che è direttore della società della salute pistoise e quella di renderli disponibili entro la prima metà di giugno all'RSA del Villone. In gestione al consorzio Comarz ci sono attualmente 80 posti per altrettanti anziani. Il requisito che ha consentito al Villone di avere letti di cure intermedie spiega il direttore Massimiliano Vignoli la presenza a 24 ore degli infermieri e del geriatra. Si nota poi che naturalmente diminuire il numero dei pazienti e la loro permanenza in ospedale potrebbe alleviare le difficoltà a cui è sottoposto il personale del SAI Jacopo. Il tema è ormai accinoto con la riorganizzazione del sistema sanitario locale in Toscana e della realizzazione dei quattro ospedali. I quattro ospedali sono stati concepiti come punto per il trattamento delle emergenze. Il problema è cosa succede nella fase intermedia tra il trattamento, la cura e l'emergenza per così dire poi la definitiva guarigione, cioè tutto il periodo in cui una persona non può comunque essere seguita a dovere, a domicilio. A raggi di speranza 5 mila euro. Si tratta di un contributo che viene assegnato alla Fondazione Caripit per il progetto che viene realizzato nella stazione ferroviaria di Pistoia a favore dei senza tetto. 5 mila euro, dunque questo contributo della Fondazione Caripit va all'associazione Raggi di Speranza in stazione Ollus. È stato destinato tramite bando pubblico al progetto 2015 per strada insieme agli ultimi. Questi finanziamenti si scrive serviranno per l'acquisto di materiali e attrezzature da un frigo industriale a contenitori termici per trasportare il cibo destinato alla preparazione e conservazione dei pasti caldi che ogni sera vengono distribuiti gratuitamente ai senza tetto. Dunque un significativo sostegno a questa attività meritoria. Ancora sulla pagina della Valdinievole il terreno torna a occuparsi della questione terme. Leopoldine ai privati, le terme vendono anche la proprietà. Si tratta in realtà ancora di una prospettiva a livello di ipotesi, non solo Torretta ma anche Leopoldine potrebbero finire presto sul mercato. E' quel che viene esplicitamente indicato nell'ordine del giorno che sarà portato in discussione venerdì dalla Commissione Paritetica Comune e Regione. Individuazione di un investitore privato all'ultimazione e alla gestione delle terme Leopoldine previa, attenzione a questo passaggio, sottolinea il giornale, eventuali acquisizioni di proprietà. La vera novità dunque è ora l'apertura della possibilità dell'acquisizione in proprietà. In altre parole, con la messa sul mercato di Torretta Leopoldine, Comune e Regione sembrano prendere decisamente la strada di una nuova privatizzazione dell'azienda, più importante della città, sebbene con una formula diversa rispetto a quella parlamentare. Si sottolinea che portò le terme e la cordata scolana all'alba del nuovo millennio, inizi del 2000, una vicenda finita certamente non bene per Montecatini. Diamo un'occhiata adesso a quel che si propone online, alcune delle testate che abbiamo scelto. Cominciamo sempre sul fronte che sta a mezzo tra il locale e il nazionale, cioè Report Pistoia. Il titolo d'apertura è per la voragine e per il fatto che sta attirando tutta l'attenzione, lo vedremo poi su altre testate online, anche di carattere nazionale, su Firenze. Si è creata a Firenze una vera e propria voragine sul lungarno Torrigiani. È sprofondato un fronte di circa 200 metri su questo lungarno, proprio a ridosso del ponte Vecchio. Sono state inghiottite tra l'altro 20 auto, danni, come ha subito rilevato il sindaco di Firenze e Nardella, molto ingenti sul posto vigile del fuoco. Probabilmente questo disastroso crollo è stato causato, pari dai primi accettamenti, dalla rottura di una tubatura. Un brutto guai davvero per Firenze. Poi ancora Report dà notizia di questo accordo che c'è stato sui profughi, un accordo tramite la regione con i consorzi di bonifica e i profughi che sono ospitati come richiedenti asilo sul territorio di Firenze e anche di pistola e saranno impiegati appunto come volontari per lavori di sistemazione degli agini e dei fiumi. Un intervento rilevante e significativo sul fronte della prevenzione dal rischio idrogeologico. Ancora il terreno poi dà notizia di un'iniziativa di valorizzazione della Porrettana. Sulla Porrettana la scoperta dei sapori e colori della montagna. Si tratta di un viaggio che verrà fatto con il treno della Porrettana appunto domenica prossima dove in particolare per quel che riguarda il Pistoiese nella frazione di Pracchia ci saranno diverse iniziative e lo scopo naturalmente di valorizzare in chiave turistica questa storica tratta ferroviaria. Vediamo un po' adesso alcuni dei titoli dei quotidiani online principali a livello nazionale cominciamo dal Corriere della Sera che dedica un approfondimento alla questione centrale del dibattito politico attuale cioè il referendum istituzionale, il voto di ottobre e qui sono sintetizzate, interessante per chi voglia farsi un'idea un po' più approfondita 10 motivi per votare sì e 10 motivi per votare no naturalmente al referendum confermativo della riforma istituzionale voluta dal governo Renzi. Poi si parla di pensioni, prima concettazione uscita anticipata, quanto costa riscattare la laurea e questo è un articolo di taglio prettamente informativo. Ancora questa voragine come detto che campeggia su tutti i quotidiani online, infatti è successo stamattina intorno alle 6.30, le fotografie rendono meglio di qualsiasi commento quel che è avvenuto. E poi ancora una notizia che si dà molto spazio oggi sui giornali, l'Eurogruppo Grecia si ha 10,3 miliardi di aiuto sull'alleggerimento del debito e poi ci sono le ultime dalle primarie americane con l'ennesimo trionfo di Trump nelle selezioni, nelle primarie per quel che riguarda il partito repubblicano. Vediamo anche Repubblica, la Repubblica apre con la Grecia, il confronto tra Grecia e Unione Europea, poi subito la voragine, quel che è successo e poi qui c'è un'intervista interessante al capo dell'ammiraglio Credendino, la missione nel Mediterraneo per fermare gli scafisti, flotte europee in Libia per fermare il traffico di armi e combattere gli scafisti e l'ammiraglio però parla in mare una sola legge, salvare chi è in difficoltà e da questo punto di vista veramente incommiabile l'attività che sta svolgendo la Marina Italiana. Poi a Napoli una notizia di cronaca molto importante, 250 mila tonnellate di rifiuti smaltiti illecitamente, 14 arresti coinvolti imprenditori e professionisti. Molto curioso e ha ampio spazio anche questa che è veramente una cosa bizzarra, questa notizia con tanto di video, si tratta di una gaffe clamorosa fatta da un candidato a sindaco durante un comizio elettorale, si tratta del candidato a sindaco Antonello Paparella che in un comizio elettorale per le amministrative nel comune di Ruvo di Puglia non ha riscosso applausi e consensi secondo i programmi e questo perché durante il suo discorso è inciampato in un lapsus veramente ridicolo e noi aggiungiamo anche speriamo non freudiano dichiarando noi anteporremo i nostri interessi personali agli interessi dell'intera comunità. Naturalmente non si è accorto per lì dell'errore, se ne sono accorti per tutti quelli che lo hanno rilanciato via social e il commento unanime che questo candidato è candidato sia sindaco ma soprattutto a diventare il nuovo ceto da qualunque che è il personaggio, notissimo personaggio demenzial populista inventato da Antonio Albanese. Diamo un'occhiata anche a una notizia, un approfondimento molto interessante che propone il giornale oggi è sulla strage delle scuole cattoliche, chiusi 625 istituti per le tasse. Lo Stato pretende da una miseria appena 47 euro a bambini all'asilo, l'alarme della fissone, sparite 400 scuole materne, i costi sono insostenibili, un'emoreggia inarrestabile, si parla naturalmente delle scuole cosiddette paritarie, chiusure su chiusure, dal Trentino alla Sicilia un piccolo mondo antico al servizio dei ragazzi sta andando a pezzi e qui c'è veramente numeri molto preoccupanti, un declino si scrive in questo approfondimento che vale la pena leggere, un declino che colpisce anzitutto le materne, qui siamo a un passo dalla catastrofe. Le paritarie dell'infanzia, afferma Antonio Trani che è presidente della FISME, la Federazione Italiana delle Scuole Materne, erano 10.050 nel 2013-2014, oggi siamo a quota 9.650, 400 chiusure in due anni e una tendenza all'aumento delle chiusure. Se non è una caporetto poco ci manca, sottolinea il giornale e c'è particolare molto interessante le cifre. Le cifre sono impietose, un ragazzo delle elementari costa allo Stato, se vai in una struttura statale, 7.366 euro all'anno, ma lo Stato dà per ogni giovane che frequenta la paritaria 787 euro. Il resto, sottolineo interlocutori di questo articolo, ce lo dobbiamo mettere noi, il gap è enorme, ogni anno restiamo appesi alla discrezionalità della politica perché i contributi non sono mai certi, ma come si fa a costruire un bilancio preventivo in queste condizioni? E questo è certamente una bella cosa, soprattutto considerato cosa succederebbe al già non molto ben messo sistema educativo italiano se continuasse questo crollo delle primarie paritarie. Veniamo adesso alla carta stampata su alcuni articoli che ci sembrano di particolare interessi e curiosità, cominciamo dalla Nazione che apre le pagine iniziali, la 2 e la 3, soprattutto la 2, su quello che sta succedendo nella campagna per le primarie statunitensi dove si è veramente messo da parte ogni barlume di Fair Play, Trump, videobomba su Clinton, ecco le donne molestate da Bill. Di che si tratta un video diffuso ieri nel quale due donne accusano l'ex presidente Bill di aver abusato di loro mentre una grande e sguaiata risata dell'ex West Lady chiude il filmato con una di la scalia e la voce in sottofondo che dice Hillary sta veramente proteggendo le donne e solo l'inizio del gioco duro. Sottolinea il giornale, Trump rispolverà anche il suicidio di Vincent Foster, l'avvocato consulente legale della Casa Bianca, ha trovato morto nella sua auto in un parcheggio a Washington e insinua la teoria del complotto che potrebbero essere stati i Clinton a farlo fuori. Rispondo pesante solo per difendermi, dice il tae con statunitense, sono loro a attaccarmi. Il clan di Hillary nell'occasione non ha replicato all'accuse, morsica Trump però su una sua frase pronunciata prima della grande crisi immobiliare del 2006 che ha messo sull'astrico l'America dei busce dei prestiti bancari facili e non verificati. Questa è la frase non molto edificante di Trump, mi auguro che la bolla esploda è che il mercato immobiliare crolli così la gente come me può entrare e fare enormi profitti, disse Trump in una intervista e quello che succede in queste circostanze si aprono enormi opportunità con la crisi e io voglio avvantaggiarmene. Diciamo appunto, viva il far play. Interessante una pagina che in modo molto schematico, ascoltando diversi interlocutori torna su Trump, Trump presidente, un'incognita, ecco cosa rischia l'export e sono affrontati diversi punti, non smantellerà la Nato ma vuole ripartire le spese, questo è l'intenzione annunciata dal ormai prossimo evidentemente candidato del partito repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, sul clima non prenderà impegni in bilico il trattato di Parigi. Per il commercio è contro il TTIP che è il trattato di commercio transatlantico, si tornerà dunque al protezionismo, profughi, taglio all'aiuti, sarà la fine dell'accoglienza. Non può influenzare la Brexit, mossa boomerang per gli USA, in questo caso si tratta di dichiarazione di Trump sul prossimo referendum in Inghilterra e in Gran Bretagna per l'uscita appunto dall'Unione Europea, in polemica molto violenta con Cameron, in sintonia col sindaco londinese Johnson, appunto Trump si è espresso a favore dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la Brexit ci sarà o non ci sarà, ben prima però della sua eluzione, il 23 giugno, lui potrebbe avere semmai un ruolo nella fase di uscita eventuale della Gran Bretagna se dovessero vincere i referendari rendendo le trattative più complicate allondanando ancora di più la Gran Bretagna dall'Unione Europea. Quindi queste sono alcuni esperti che parlano su questi punti evidentemente molto cruciali, poi ampio spazio appunto a questa notizia che ha avuto ampissimo riscontro sulla stampa riguarda la Grecia, come dicevamo, Bruxelles riapre i portafogli vicino il prestito a 10,3 miliardi, l'Eurogruppo si dà due settimane per valutare le riforme di Tsipras, non è ancora maturo l'accordo per alleggerire il debito greco, però la strada per l'esborso di una tranche del terzo prestito appunto di 10,3 miliardi nelle prossime settimane sembra arrivare al termine, una notizia molto importante per la Grecia. L'Austria verde ha paura, più agenti al Brenner, il nuovo presidente, non ferma i muri e il muro anti-immigranti. Ci sono state come noto le elezioni vinte con strettissimo margine dal fronte, per così dire meglio, dal candidato dei verdi, comunque sono le elezioni che hanno sconfitto, hanno segnato pur di misura la sconfitta di un partito tracciato come anti-europeista e xenofobo. Ora il cancelliere austriaco Christian Kern dice di aver capito il messaggio delle urne in un'intervista allo standard, si sottolinea che è il giornale dell'intelligenza progressista, ha promesso di cambiare la legge per consentire agli immigrati di lavorare come in Germania dopo soli tre mesi così da ingettivare la loro integrazione, ma ha anche ribadito che il loro numero non dovrà superare 37.500 unità. E poi si parla appunto del Brenner, l'Austria ha mandato al confine altri 50 agenti di polizia che avevano il compito di controllare su strade, autostrade dei treni che in territorio austriaco non entrino i migranti. La questura di Bolzano da parte sua ha fatto sapere che a sua volta ha incrementato con 50 agenti il suo contingente. Nel frattempo al Brenner, nonostante gli annunci del ministro degli interni di Vienna, Wolfgang Sobotka, continua la costruzione della barriera che potrebbe essere usata per il cosiddetto management dei migranti. Qualora gli austriaci lo giudicassero opportuno e quindi insomma vedremo ancora questa vicenda ormai che tiene il banco da mesi come andrà a finire. Una notizia della cronaca nazionale che riguarda però la Toscana riguarda questa indagine che non dà una bella immagine della giustizia. L'indagine su questa presunta infermera trattata da serial killer in attesa di capire se Fausta Bonino, questo si tratta dello spirale di Piombino, naturalmente sia colpevole di 13 omicidi di cui è accusata, l'inchiesta della procura di Livorno getta una serie di inquietanti interrogativi sul funzionamento della macchina giustizia nel nostro paese, l'inchiesta che da subito apparve debole, povera di elementi concreti contraddittori nella sua ricostruzione, qualche giorno fa è stata letteralmente smontata dal Tribunale dell'esame di Firenze che ha spiegato come non solo per l'infermiera non sia necessaria la carcerazione preventiva ma che tutta l'indagine si fonda su teoremi senza riscontri mentre manca la benché minima prova a sostegno delle tesi accusatorie e il tutto a appoggio di questo articolo che è centrale nella vicenda con un'intervista appunto all'infermiera che dice mi hanno trattato da serial killer, l'infermiera vogliono incastrarmi, chi ha voluto incastrarla e perché dunque si domanda a questa donna che è stata in carcere, diversi giorni sono stata accusata dalla struttura sanitaria, loro hanno chiamato i NAS quando non hanno più potuto coprire delle cose che funzionavano nell'ospedale, questa è la nostra spiegazione. Il Tribunale dell'esame ci dice, chiede l'intervistatore che non è anzi l'intervistatrice, che non è possibile neppure dimostrare che sia stata somministrata all'eparina in almeno 8 dei 13 pazienti, come sono morti? E l'infermiera risponde, bisogna esserci stati all'ospedale di Piombino, lo sa che prima del mio trasferimento i pazienti arrivavano dalle sale operatorie in ipotermia perché erano sprovvisti dei lettini riscaldati e quando arrivavano in rianimazione dovevamo farli riprendere noi, ora dopo questa vicenda sono arrivati i lettini riscaldati e dopo l'ispezione ministeriale ci sono anche dei tutor che seguono gli anestetisti e gli infermieri, significa che qualcosa che non funzionava prima c'era. Per il fronte sindacale economico poi si dà spazio al governo che riapre le porte ai sindacati, pensioni minime nel cantiere delle riforme di Sgello con Cigelle e Cisleuil, la Camusso svolta positiva avanti così. Di che si tratta? Si tratta del cantiere pensione lavoro che è stato riaperto ufficialmente. A certificarlo è il governo con Matteo Renzi che parla di incontro interlocutore ma è importante, si dice pronto all'accordo anche se la concentrazione non è la coperta di Linus e rilancia su interventi per pensioni minime nei prossimi 3-4 mesi e flessibilità in uscita. In realtà si tratta proprio di un incontro totalmente interlocutorio però è già un cambio di passo rispetto ai precedenti dove questa cosiddetta concentrazione non era mai stata avviata. Poi c'è un interessante e curioso anche per come è trattato in maniera abbastanza ironica l'intervento del Presidente della Fondazione Gramsci sul referendum istituzionale, il Presidente della Fondazione Gramsci si schiera per il sì al referendum, vacca mi schiero coerenze e non dimentico togliatti. Passare da due camere a una non mi pare poco, specie in un sistema che nel rapporto Stato-Regioni ha sofferto di una sovrapposizione di competenze che è una delle cause della stagnazione del Paese. Il referendum costituzionale di ottobre interviene in una fase di crisi dei partiti, è una delle domande che vengono rivolte appunto al Presidente della Fondazione Gramsci, la risposta è sicuro? Se intendiamo per crisi un modello come quello che ha caratterizzato il Paese tra i 48 e gli anni 80 si deve parlare di modello che non esiste più, poi meno risorse, diverse identità. Diamo un'occhiata anche al terreno per quel che riguarda notizie a livello nazionale. Egiptera, si torna dunque su questa tragedia dell'aria, sui resti umani, le tracce di un'esplosione, il risultato dei primi esami autoptici, parla di corpi dilaniati, Cairo smentisce, è ancora giallo sul volo caduto in mare, ipotesi bomba o avaria di bordo. E qui si fa un approfondimento su dichiarazioni tra ufficiali e ufficiose che escono dall'Egitto e sta conducendo appunto questa indagine, pur smentite da autorità del Cairo, fonti anonime vicine all'inchiesta sul disastro aereo e Giptera della settimana scorsa hanno rilanciato l'ipotesi di terrorismo, sostenendo che i resti umani dilaniati rinvenuti in mare fanno pensare a un'esplosione a bordo dell'Airbus A320. Sempre sul fronte internazionale poi si dà notizia dello sgombro di i domeni migranti verso Salonico. Di che si tratta? Si tratta dello sgombro del più grande campo profughi in Europa, qua nel campo, al confine tra Grecia e Macedonia, vivivano ancora 8400 persone. Stremati dopo aver vissuto per oltre due mesi sotto le tende nel più grande campo profughi d'Europa, ieri migliaia di profughi hanno ceduto. Intere famiglie, donne sole con bambini e adolescenti rimasti orfani e anziani hanno preso le loro cose e si sono lasciati accompagnare fuori dalle attendopoli di i domeni, diventata il simbolo della crisi dei migranti in Europa. Imbarcati su autobus sono stati trasferiti in campi di accoglienza alla periferia di Salonico e sempre sulla vicenda Europa e migranti l'esodo Erdogan senza visti salta all'accordo. L'esodo è iniziato mentre Istanbul si svolgeva l'ultimo giorno del vertice ONU sulle crisi mondiali, guerre, esodo e cambiamenti climatici. Il summit che ha sancito la distanza tra la cancelliera Angela Merkel e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan è tornato a minacciare Bruxelles. Gli aiuti promessi dall'Unione Europea per l'accordo sui migranti non sono mai arrivati in Turchia. Se non ci saranno progresse sulla liberalizzazione dei visti, la Turchia non attuerà l'accordo sui migranti. Ancora dunque dichiarazioni piuttosto controverse dalla Turchia è un refrain di questi ultimi mesi non solo sulle questioni legate alla migrazione. Direi comunque che per il momento possiamo fermarci qui con questa rapida disamida e alcune delle notizie ci sono sembrate tra le più rilevanti proposte dalla stampa questa mattina. Naturalmente per quel che riguarda aggiornamenti sul fronte della cronaca diamo appuntamento alla prima edizione della giornata del nostro TG60 a partire come di consueto dalle 14 e 20. Per il momento grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento di mattinata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.